Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kirio1984. Oggi vi farò vedere le mie letture occidentali di ottobre 2019. Partiamo subito con Aficionados di Andrea Pazienza per Coconino Press al costo di 16 euro. Questa nuova edizione di Aficionados che uscì ovviamente negli anni in cui fu attivo Andrea Pazienza, se non sbaglio questa negli anni 70, è adesso colorato da Lorenzo Ceccotti perché aveva avuto una storia con la colorazione comunque non proprio positiva diciamo ecco. Aficionados è la storia di alcuni uomini che si trovano in guerra, infatti inizia il 10 giugno del 1940 e questi uomini fanno parte delle truppe italiane. In particolare in questa vicenda, in questo volume, seguiamo la storia di tre uomini, anzi quattro uomini perché sono il tenente stella, il capitano d'angelo e due soldati semplici che verranno nominati appunto e ricordati come soldati semplici per tutta la durata del volume che ci fanno vivere una storia veramente assurda con gag su gag. Gag chiaramente molto alla pazienza quindi pungenti, ironiche ma che allo stesso tempo fanno riflettere molto e i disegni come al solito erano davvero stupendi quelli di pazienza e qui devo dire che lorenzo ceccotti ha fatto un lavoro straordinario a mio avviso perché sembra un fumetto colorato in quegli anni nonostante poi lorenzo sia uno che ami anche molto lavorare con il digitale con tutte le nuove tecnologie è riuscito davvero a dare una colorazione incredibile a mio avviso a questo volume. Per quanto riguarda l'opera in sé il tenente stella è veramente uno dei personaggi più simpatici e più stupidi mai creati da Andrea Pazienza e sto proprio per preparare un video sul personaggio di Andrea Pazienza sulla vita artistica di Andrea Pazienza quindi sicuramente inserirò anche questo volume che pur non è tra le sue opere maggiori però è molto 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 simpatico e lo consiglio in particolare ai collezionisti di Pazienza e ai completisti appunto a chi vuole leggere davvero qualsiasi cosa del grandissimo maestro italiano purtroppo scomparso poi mi è piaciuto davvero molto un debutto per Antonio Pronostico mentre Fulvio Risuleo lo sceneggiatore è già attivo da qualche anno ed è sniff al costo di 20 euro sempre per Coconino i disegni sono molto particolari e belli mi sono davvero molto molto piaciuti e la storia è quella di due amanti due persone che almeno fino a quel momento si amavano moltissimo ma che stanno vivendo una sorta di separazione un momento come capita in quasi tutte le coppie anzi direi in tutte le coppie e decidono quindi di andare in vacanza di andare a sciare sulla neve per provare un attimino a sistemare a far passare questo momento che li sta allontanando molto durante la cultura di quest'opera però noi non vediamo i due uomini quest'uomo e questa donna parlare e dialogare fra di loro ma bensì questo compito verrà assegnato ai loro nasi come vediamo qui e da qui lo sniff del titolo un'opera particolare sia per quanto riguarda i testi che appunto i disegni come dicevo prima che consiglio agli amanti del fumetto un po più ricercato e particolare poi ho letto gli esuberati di jacques tardi e daniel pennac al costo di 19 euro e 90 per cosmo nella collana graphic novel ed è appunto una storia sugli esuberati licenziati disoccupati insomma un po gli ultimi della società questo è lo stile di disegno molto molto franco europeo chiaramente essendo una graphic novel francese di due autori tra l'altro molto molto affermati soprattutto daniel pennac chiaramente che è conosciutissimo in pratica a un certo punto questa donna che fa la veterinaria gestisce uno zoo vede che dentro una delle gabbie si trova un uomo questo uomo spero di che si vedano le tavole perché non riesco a vedere bene se si vedono o no quest'uomo appunto sembra che stia facendo una sorta di rappresentazione o meglio lui si dichiara come un disoccupato però dietro a questo in realtà c'è molto molto di più non posso spoilerare perché non è diciamo lunghissima infatti sono una settantina di pagine però è stata una lettura comunque molto molto piacevole non sono uno che legge tantissima roba franco belga o comunque da quella parte di mondo però devo dire che la lettura non mi è affatto dispiaciuta tutt'altro discorso chiaramente per me per i miei gusti personali leggendo sandman deluxe libro ottavo per arvo edizioni a 23 euro e 95 ovviamente di quel genio assoluto di neil gaiman e qui è davvero difficile parlarne nonostante non sia un'opera così difficile come molti dicono anzi per me è scorrevolissima difficile parlarne proprio per la sua magnificenza in questo particolare volume ci troviamo alla locanda alla fine del mondo dove una serie di personaggi da quelli più umani come sono i protagonisti che vediamo all'inizio dell'opera che si ritrovano in questa locanda dopo che è scoppiata una sorta di tempesta di neve nonostante si trovino in giugno e altri protagonisti molto più spettrali e particolari come quelli che vediamo anche in queste bellissime tavole ciò che è bello è che ognuno di loro racconterà una storia una storia particolare una storia meno particolare ma che ci farà capire comunque come qualsiasi storia se ben raccontata se vera o meno possa intrattenere alla grande ed è proprio su questo che si basa questo volume un atto d'amore verso le storie raccontate e chi può dirlo meglio di un raccontatore di storie così eccezionale e magnifico come neil gaiman poi ho letto spray leads di luca enoch raccolta in volume da edizioni bd a 17 euro e 50 la prima serie di spray leads che è appunto l'eroina di un fumetto di luca enoch che mi era molto molto piaciuto con gea un altro suo fumetto che venne dopo questo qui questo qui che fu pubblicato nell'ottobre del 1992 quindi siamo davvero molto molto indietro con il tempo anche se a me a pronunciarlo sembra ieri e però il fumetto affronta molte delle tematiche che poi oggi saranno cardine diciamo nella società e quindi problemi come l'omofobia il razzismo tematiche come i rapporti omosessuali la criminalità ce n'è tanta tutti affrontati forse leggermente in modo un po' superficiale come era prevedibile comunque anche per il 1992 ma nonostante questo comunque luca enoch faceva sentire prepotentemente la sua voce e quello che pensava di tutte queste aberrazioni come appunto l'omofobia il razzismo e chi peggio ne ha più ne metta sicuramente non una serie di culto non una serie da leggere assolutamente ma molto molto piacevole e infine due volume che mi sono piaciuti un po' meno il primo è salome edito da kleiner flug al costo di 12 euro di emilia cinzia perri e e e livia vanni credo si chiami la disegnatrice i disegni sono molto carini diciamo che non mi ha preso perché non conoscevo il dramma originale da qui è tratto quello di oscar wilde e quindi forse mi è sembrato un po' complicato da seguire anche poi il testo è molto molto pomposo non so probabilmente non era il momento adatto di leggerlo ma non mi ha preso così tanto sono però molto molto carini i disegni tra l'altro questo volume l'ho vinto grazie alla perri che mi aveva proprio taggato su un post di kleiner flug perché c'era questo contest dedicato a tutti i maurizi del mondo perché questo era un volume dedicato ad un maurizio che evidentemente però non aveva ritirato la sua copia quindi molto 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 carino lo sketch e anche i disegni però personalmente non mi ha preso tanto per i motivi che vi ho elencato e non mi ha preso tantissimo purtroppo nemmeno geogalaxy di massimo mattioli sempre per coconino al costo di 23 euro dico purtroppo perché in effetti in realtà la sua precedente opera sempre edita da coconino che avevo letto precedentemente di cui vi ho parlato negli altri video opinioni ovvero squeak the mouse mi era piaciuta davvero tanto non ho trovato la stessa genialità in questo geogalaxy che è comunque un fumetto che si fa leggere molto simpatico molto irriverente proprio alla maniera di mattioli che era uno degli autori più pesanti e disturbanti probabilmente come tematiche proprio come immagini in cui però non ho visto quel guizzo di genio invece che era ben presente in squeak the mouse probabilmente anche qui ripeto essendo una cosa di gusti personali quello mi è piaciuto di più e questo di meno potrebbe essere magari per qualcun altro invece questo è un capolavoro e quello non piacerli più di tanto fatto sta che però a me non ha dato le stesse sensazioni così positive di squeak the mouse e questo era il video con le opinioni sui fumetti occidentali di ottobre 2019 fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate se avete letto qualcuno di questi volumi lasciate un bel like e condividete il video per aiutare il canale a crescere un pochino iscrivetevi attivando le notifiche che è molto importante qui sotto nel box informazioni trovate tutte le info utili noi ci vediamo alla prossima e ciao